Questa è l'ammiraglia del cantiere Ranieri International di Soverato, il Ranieri Kaiman 45 Cruiser. L'ammiraglia della gamma è il gommone più grande che sorprende per gli spazi sia interni che esterni. Andiamo subito a vederlo a bordo. Questa unità monta due Mercury V12 da 600 cavalli che sono i fuori bordo al momento più potenti disponibili sul mercato. Una coppia l'avevamo visto anche in versione con tripla motorizzazione in versione racing. In questo caso troviamo molto più spazio sulla plancetta di poppa che come vedete è molto ampia. Il bracket dei motori è stato rinforzato. Ricordiamo che questi motori non sterzano perché hanno il piede immerso autosterzante che è quello a definire la virata mentre il motore rimane fisso. La plancetta diventa molto ampia. Vediamo un tubolare potente che corre fino a prua che sfiora l'acqua poppa e si alza verso la prua. Non ci resta che salire a bordo. Ad accoglierci troviamo questo grande prendisole sotto il quale si trova un garage per un piccolo tender. Poi lo vedremo anche aperto. La dicitura della barca Cayman 45.0 Cruiser. I due passavanti sono simmetrici, comodi e ben protetti da questa parte in vetroresina. Lo schienale ribaltabile può fungere quindi da schienale per il divano oppure da poggiatesta per il prendisole. Qui troviamo dei portabicchieri e poi arriviamo alla zona più conviviale. Questa è la dinette perché questa parte qui in basso in realtà è un tavolo che si alza. Può diventare un tavolo per i momenti del pasto oppure ingrandire ulteriormente il prendisole fermandosi all'altezza delle due sedute. Anche in questo caso lo schienale può servire il divano per il pranzo come in questo caso oppure un divano fronte marcia che ci conduce alla zona cucina. Eccola qua. È una cucina molto ampia. Qua troviamo il lavello e qua la zona con i fornelli. Abbiamo due piastre a induzione. Sotto due frigoriferi molto capienti sono due frigoriferi a pozzetto che permettono anche di organizzare sia un buon pranzo per un'uscita giornaliera ma anche di soggiornare a bordo per più giorni magari un fine settimana. Eccoci nella zona timoneria. Abbiamo il joystick di Mercury per la manovrabilità, le doppie manette, il timone con la R di Ranieri International e una strumentazione similar che vi spiegherò a breve perché è veramente particolare. Andiamo a prua. Il passaggio è sicuro anche se qua c'è solo il tubolare sulla dritta però ci si può tenere qui alla console. Poi troviamo subito questi tentibene e subito il grande prendisole di prua che occupa tutta la superficie della prua e una particolarità sono queste due chaise long veramente comode, due poltrone esagerate dove troviamo degli oblò, delle finestre che illuminano la cabina di prua e troviamo anche i comandi hertz per gestire l'audio di bordo direttamente seduti su queste poltrone dove ovviamente dotate di portabicchieri. Il parabrezza che si collega direttamente all'artop, al tettuccio del Cayman 45 e da qui possiamo tornare verso centro barca di nuovo sempre tenendoci grazie ai sostegni che troviamo abbondanti. Abbiamo una tripla seduta per il pilota che può stare in compagnia di altri ospiti. Scendiamo sotto coperta con questi 4 gradini sospesi ed eccoci nella zona di prua dove troviamo questo letto matrimoniale enorme, veramente grande. Guardate le due finestrature al mascone che permettono proprio di svegliarsi a pelo d'acqua. In fondo c'è la televisione, qui vari spazi per lo storage, per gli effetti personali e queste sono le due finestre che si vedevano al di sotto della poltrona. Qui altri armadietti e questa parte può ospitare anche un tavolo, vedete sotto c'è la piantana, può alzarsi, diventare un tavolo. In questo modo questa parte U diventa una dinette in cui ci si può rifugiare nelle ore più calde oppure quando c'è brutto tempo. E guardate, basta girarsi di 180 gradi, guardate che bella sorpresa. La seconda cucetta dove troviamo un altro matrimoniale. Questa parte si può togliere, si possono avere due letti singoli oppure due divani separati per sedersi. L'altezza è buona, anche qui troviamo un'altra televisione, c'è una tenda da chiudere per assicurare la privacy, ideale per una coppia di amici della coppia armatoriale oppure per dei bambini. E poi abbiamo ovviamente il bagno, eccolo qui, ben illuminato, molto alto, guardate l'altezza supera abbondantemente i due metri. Il lavandino, il locale doccia con WC integrato è veramente alto. E a proposito di altezza, guardate dalle immagini quanta altezza c'è. Saremo almeno due metri e quindici, due metri e venti. Appena giunti nella zona sottocoperta troviamo una ripetizione del display Simrad che ospita una strumentazione molto particolare. Vedete l'icona dedicata a Ranieri 45? Eccola qua, clicchiamo, si apre una schermata, in questo caso dedicata alla domotica per le luci esterne che possiamo anche dimmerare, come in questo caso le luci di navigazione, la luce alla fonda, le luci subacquee, le luci di poppa e oppure le luci interne, ecco le luci della cabina, in questo caso sono tutte accese, anche queste dimmerabili e si possono gestire varie funzioni. Oltre alla domotica, questo strumento realizzato per Ranieri dal gruppo Navico, permette ovviamente di gestire tutta la fase di navigazione, vedete in questo caso abbiamo anche qui le luci di navigazione, abbiamo lo stato della batteria, lo stato di carburante, adesso abbiamo i motori spenti, poi la schermata potenza che ci informa su tutti i servizi elettrici di bordo, tutto ciò che potenza, quindi dai motori che appunto dicevo sono spenti, dallo stacca batteria che ovviamente in questo momento non è attivo, infatti vedete che le batterie sono in funzione, la batteria dei servizi è attiva, i pannelli solari non ci sono, non sono collegati, quindi non risulta nulla e i servizi, la funzione dei servizi è attiva e vedete infatti l'inverter è funzionante in questo momento, se fossimo collegati in banchina qui avremmo anche la tensione di banchina 220 volt così come se avessimo il generatore collegato. Un'altra schermata molto importante riguarda i livelli delle sentine, vedete qui viene riprodotta la barca e l'acqua dolce, il livello di acqua dolce e di acqua nera, in questo caso i serbatoi sono praticamente vuoti e gli interruttori per gestire le sentine che si trovano nell'imbarcazione. La schermata luci, la schermata impostazioni che permette di gestire tutti i vari parametri, ovviamente serve una password e la schermata degli allarmi che ci fornisce un'indicazione su tutto quello che non va in quel preciso momento. Siamo tornati all'esterno, all'estrema poppa per far vedere alcuni agganci, questi sono della scaletta, questo è il bicchierino della passerella che si può collegare sia sulla sinistra che sulla dritta, qua sono dei vanni di ispezione del bracket per verificare i collegamenti del motore e poi qui troviamo la possibilità di installare anche un tendalino, qua si incastrano i pali per ombreggiare anche il prendisole e collegare il tendalino nella parte superiore. Dicevamo il garage è veramente grande, vediamolo subito, si apre tramite questa pulsantiera. Eccolo qua, veramente spazioso, questo è il tendalino che si può installare, qua sotto troviamo un altro portellone che conduce a una zona tecnica, un altro vano per l'ispezione che è di facile accesso, qui il volume è veramente importante. Abbiamo aperto anche il vano tecnico sottostante, troviamo l'invertero, il generatore, la sentina e altri impianti di facile ispezione, anche qui l'altezza è molto buona. Un'altra parte che possiamo movimentare del piano di coperta è il tavolo che può diventare un prendisole oppure rimanere una zona di calpestio. Come vedete da questa tastierina è divisa in due pannelli, quindi possiamo premere tutte e due per preparare il tavolo, perché magari è il momento del pranzo e siamo in tanti. Alzando i due pannelli a metà altezza possiamo estendere ulteriormente il prendisole, guardate, da qua a qua, veramente grande. Però quando è ora di pranzo possiamo estrarre il tavolo e sederci intorno ai due divani frontali. Ed ecco la sala da pranzo del Cayman 45 Cruiser di Ranieri. Continuando ad analizzare la coperta, questi sono i due vani per le zattere e si trovano in una posizione cruciale e soprattutto di facilissimo accesso, perché guardate siamo tra la cucina, comunque sul divano e un attimo estrarle in caso di necessità. Solitamente le zattere vengono relegate a gavoni poco facilmente raggiungibili, qua invece le abbiamo subito pronte a disposizione in caso di emergenza. Per un'ultima considerazione sulla coperta, come vedete è un piano unico, non ci sono ostacoli, non ci sono gradini e io qui dall'estrema poppa posso arrivare a prua semplicemente camminando senza trovare alcun ostacolo. La larghezza dei passavanti è sempre ottima ed eccoci qui pronti per prendere il sole, per la tintarella oppure per tuffarci da questa delfiniera che agevola anche l'imbarco grazie a questa pedana all'estrema prua. Cayman 45 è l'ammiraglia di Ranieri International, un gommone, un'imbarcazione veramente dai livelli premium, tantissimo spazio abitativo, tantissimo spazio in coperta per il sole, per la convivialità e anche tante prestazioni. Pensate che con questa coppia di 600 supera i 50 nodi. Grazie a tutti.